Ciao a tutti! Io sono Rayana e siamo... Da capo? Presentazione. Chi siamo? Le stelline, Rayana e Ryan. Io sono Rayana e il mio fratellino Ryan. E oggi siamo qua a giocare a un gioco, a Huggy Wuggy! Per primissima volta. Rayana gioca a Huggy Wuggy e lo voleva fare insieme a voi, giocare insieme a voi. Cioè io lo sto registrando mentre Rayana per la prima volta gioca a Huggy Wuggy. C'è una musichetta che mi sta facendo paurosissima! Play? La pubblicità come sempre! Come sempre? No! Ma è che mi sono riuscita a farlo. Ecco. No! Stretch Huggy. È un tipo stretch. Huggy che si stretcia. Però vediamo quale sfida lo dobbiamo superare. Inizia, Rayana. Da. Inizia. Ma che è? Che devi fare? Mendo la mano? Dove è la mano? Così? No, no, no! Che... No! Avete visto? Che bocca è grande! Ma deve... Ma che... Per il contrario? Perfino. No, tagliai la testa. Vai! Vai. Deve arrivare Huggy sulla faccina. Più veloce che ci sono quelle che lo possono tagliare. Oh no! No! Pavorissima stelline! Ecco la pubblicità. Ma non ci fanno giocare. È perché è un po' per me. Troppa pubblicità. Hanno ragione. Un po' spaventoso. Però... Noi ci vogliamo giocare. Mettiamo la mano lunghissima e lo mettiamo proprio qua. Dobbiamo praticamente portare Huggy sulla faccina dove si vive. Oh mio Dio, sta scoppiando. Guarda qua. No! Wow! Livello? Complicato. Ok, al prossimo livello. Quiz 9. TNT ci sono anche qua. Come è il più cavalletti miei? Ecco, vedi? Ma che fa quello lì? Sto facendo la cacca. Non ho capito. Ciao bello! Che fa così? Non lo so. Ecco la canzone. Avviso che buca canzone che ho. Huggy Day and Night. Abbracciami giorno e notte. La canzone mi piace, però... Staline, se volete che facciamo un 3 Marker Challenge con Huggy Wuggy, lasciate un commento. Hashtag 3 Marker Challenge. Andiamo al prossimo livello. Che cosa succede qua, Ryan? Non lo so. Ma io cerco di fare così. Eh no. Ciao, ciao. Siamo mangiati. Oh mio Dio, però fa paura. Sì, ma fa paura. Abbiamo vinto anche 30 morettine. Guarda quanto fa paura. Guarda, sta mangiando. Sta pregando così non la mangia, però Huggy Wuggy... Lo mangia lo stesso. E ha fame. Affammato. A me mi fa paura la faccia. Ciao. Sto arrivando. Tranquillo, che ti mangi subito. Oh mio Dio. Un altro livello completato e un'altra pubblicità. Ma le pubblicità... ci fanno impazzire. Ci fanno impazzire. Devo togliere internet. Non c'è niente più pubblicità. Oh. Un altro livello completato. La vittoria tutta tua, Ryan. Andiamo con il prossimo livello. Attenzione, Ryan. Che Huggy Wuggy viene tagliato da quella cosa lì che gira. Ma è facile. È tutto scratch. Guarda come si fa. Che club è grande, però c'è. No. Oh mio Dio. No, paura. Un altro livello completato. Andiamo con il prossimo livello. Togliendo il wifi ci aiuta a giocare in pace. Così le pubblicità non compaiono più. Aspettate. Qua c'è un muro, Ryan. Che cosa fare? Non c'è po'. Questa cosa qua mi sa ti aiuta a rompere il muro, però non so come. Manco io. Devo prendere questo? Mi sa devi prendere quella pallina lì. Ecco. Ecco. La metti qua. Ecco, muro rotto. Adesso Aghiwaghi può mangiare e farà la faccina tutta felice. Guardalo adesso. Guardatelo, guardatelo. Guardatelo, guardatelo. Guardatelo come è contento. Che sorriso che farà. Sorrigione. Oh mio Dio. No, sempre più grande questa bocca. Chiuderà un pochino. Andiamo avanti con quiz 14. 14 livelli completati. No, ma. Ecco. No, guardate che. Ma che sorriso è? Brava, Rayana. Ma non ti fa un po' paura? Un po' sì. Mi sta avvenendo i brividi. Guarda, lo farò per spezzare. Ecco. Lo hai fatto spezzare. È morto. L'hai ucciso. Oh mio Dio. Ho appena ucciso Aghiwaghi. Che succederà adesso a me? Sono una povera bambina. Non ho fatto niente di male. Avete visto? Aghiwaghi è morto proprio adesso. Davanti ai nostri occhi. Io sto vedendo tanta bocca. Perché? Che cosa hai fatto? Hai fatto troppo stretching Aghiwaghi? Che succede? Rayana! Rayana! Ragazzi, sia sveglione! Rayana! Sono solo io! Rayana! Ma Sveglione è svenuta? Rayana è svenuta perché aveva ucciso Aghiwaghi. Aghiwaghi è morto sul nostro gioco. Proprio in quel momento sei venuto tu a bussare alla porta. Lei pensava che Aghiwaghi è venuta a vendicarsi. Ma svegliati! Svegliati! È solo Rayana! Stelina, qua ci salutiamo e ci vediamo con un altro video. Mamma, nascondiamoci! Dobbiamo infestare la casa! È infestata la casa! Nascondiamoci prima che viene Aghiwaghi! Nascondiamoci! Nascondiamoci! Ma sono solo io! Rayana, ma ero solo io a bussare alla porta. Ciao Stelina! Ci vediamo con un altro video, con un altro gioco e con un'altra sfida di tre penarelli con Aghiwaghi! Ciao! Ciao!